Il termine per la presentazione delle liste scade domani sera alle 20. I cancellieri della Corte d'Appello hanno aperto le porte del Palazzo di Giustizia questa mattina alle 8. Le liste per la Camera si presentano al piano terra, nell'aula della Corte d'Appello, quelle del Senato al secondo nella sala biblioteca. La destra in mattinata ha già depositato le firme a sostegno dei propri candidati. Storace, Becce e De Filippis alla Camera, Santone e Biondi al Senato. Per Montecitorio occorre, per così dire, anche una formazione di delusi. Neutri date scheda bianca il nome, Antonio Fiorilli il candidato. Le stanze del Palazzo di Giustizia si sono presentate all'obiettivo della telecamera, a parte forze dell'ordine da detti a lavori praticamente vuote. Atmosfera tranquilla. Domani, nell'imminenza dello scatere del termine per la presentazione delle candidature, le operazioni saranno più frenetiche. Ma i giochi ormai, tranne qualche piccolo dubbio, sono fatti. Il PDL dovrebbe presentare in Molise Alfano alla Camera e Berlusconi al Senato come bandiere, con i parlamentari uscenti Sabrina De Camilli se l'udisse Di Giacomo. Dopo indiscrizione e conferenze stampe, è chiaro che Gianfranco Vitaliano e Filoteo Di Sandulo, assessori regionali, correranno per Camera e Senato con Fratelli d'Italia. La lista Monti viaggia con Michele Scassera alla Camera e Franco Giorgio Marilelli al Senato. Il PD, dopo le primarie di fine dicembre scorsa, hanno chiuso i giochi da tempo. Danilo Leva sarà capolista alla Camera con a seguire Laura Venitelli e Luca Iosue, Roberto Ruta con alle spalle Maria Antonietta Conti al Senato. SEL proporrà a Vendola, D'Angelo e Mainelli per Montecitorio, Valente e D'Antonelli per Palazzo Madama. Rivoluzione civile dell'ex PM in Groia, secondo le previsioni, sottoporà agli elettori le candidature dello stesso ex magistrato, di Nanni in quota Italia dei Valori e della Natiglia alla Camera, di Caterina e Iemma al Senato. Le parlamentarie del Movimento 5 Stelle hanno già rivelato i nominativi degli aspiranti deputati dei Grillini, Bottiglieri dell'Orco e Casminro Camera, Bruzzone D'Adamo Senato. Dubbi invece per costruire democrazia. Il Movimento ha depositato il simbolo elettorale alviminale anche per le politiche. Domani sera si scoprirà il nome del candidato al Senato della Repubblica.